La diciassettesima edizione del Talent Amici è finita con un record primaverile di ascolti. Su Rai 1, ricatto d'amore registra un buon 14,1%. Era facile, quasi scontato, prevedere che la finale di Amici 2018 avrebbe sbancato la Uditen. Così è stato, perché l'ultima puntata del celebre Talent condotto da Maria De Filippi ha fatto registrare ascolti davvero importanti. Per comprendere meglio l'importanza dei dati basti dire che in un giorno diverso dalla solita programmazione, ovvero un lunedì rispetto al consueto sabato, la trasmissione ha raccolto picchi di quasi 5 milioni di spettatori, con uno share di tutto rispetto per un giorno feriale. A onor di cronaca, quest'edizione è stata vinta dal cantautore Irama. Share e spettatori tv della finale di Amici 2018. La finale di Amici 2018 è stata mandata in onda da Canale 5 nella fascia di prima serata di lunedì 11 giugno. In questa stessa data, su Raiun era anche prevista la messa in onda della prima puntata di Tutto può succedere, che però è stata spostata a lunedì successivo. Per quanto riguarda gli ascolti tv, l'ultima puntata del celebre Talent della rete ammiraglia di Mediaset, condotto come sempre da Maria De Filippi, è stata vista da una media di quattro. 872 mila telespettatori e ha fatto registrare la percentuale del 25,13% di share. Numeri importanti che confermano, se mai ce ne fosse bisogno, la bontà di un prodotto televisivo che non mostra segni di cedimento. L'unico appunto, se proprio vogliamo guardare il pelo nell'uovo, può nascere dal confronto con la finale dello scorso anno che fece registrare uno share leggermente più alto, 28,54%. Per quanto concerne il verdetto conclusivo, la diciassettesima edizione di Amici di Maria De Filippi è stata vinta dal cantautore Carrare Seirama che ha dedicato la vittoria alla nonna. Il bravo artista toscano si è imposto su Einar, Carmen e Loren. Gli ascolti tv di lunedì 11 giugno sulle altre reti. Passando agli ascolti delle altre reti, su Rai un ricatto d'amore raccoglie 3.211. 0-0-0 spettatori con il 14,1% di share, su Rai 2 il telefilm tedesco squadra speciale Cobra 11 fa registrare il mio. 107.000 spettatori con il 5,2% di share, mentre su Rai 3 il programma di approfondimento report totalizza 1. 472.000 spettatori ed una percentuale di share del 6,6%. Tornando alle programmazioni Mediaset, su Italia un Kung Fu Panda ha messo davanti alla tv una media di 898. . 0-0-0 spettatori, con lo share del 3,8%, mentre su Rai 4 Act of Valor è stato scelto da 678. . 0-0-0 spettatori ed al conseguente 3,1% di share. Conclusa anche quest'edizione di Amici, per il prossimo mese i palinsesti televisivi delle reti Mediaset saranno dominati dalla messa in onda delle partite del Mondiale 2018 in Russia. . .